Ciao a tutti, bentornati nel vlog e scusatemi un sacco che negli ultimi mesi non ho pubblicato neanche un video e c'è una sorpresa, sarebbe il coniglio nano che ho comprato ancora a febbraio, quindi tre mesi fa e siccome non ve l'ho ancora fatto vedere ho deciso che oggi per recuperare vi farò vedere un montaggio video di Kip che è il nome del coniglio nano e così lo potete vedere e tra l'altro ve lo faccio vedere subito Kip, eccolo qua, lui è Kip e niente, direi di partire col montaggio e al prossimo video, penso che non passeranno ancora tre mesi per il prossimo video appunto e basta, quindi via il video, grazie a tutti e alla prossima, ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti